Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo per andare a presentare quello che sarà l'ultimo convegno di trotto qui sulla pista siracusana prima della pausa estiva. Un convegno che andrà in scena lunedì 8 luglio a partire dalle ore 19 e 25, un convegno che prevede 7 corse in programma e un ricco numero di partenti. Andiamo a scendere nel dettaglio e andiamo a presentare la prima prova, il premio Orsa Maggiore, una prova dedicata ai gentleman che si impegneranno per una a reclamare, guideranno soggetti indigeni di 4 anni e sono in otto al via. Un premio Orsa Maggiore che noi andiamo ad esaminare con il trainer Vincenzo Lo Giudice che ingaggia Zuffa OP. Onestamente il numero non è bello, quindi diciamo che qua si va a caccia di un impiazzamento molto marginale, poi fra l'altro la categoria è molto impegnativa. Qua segnalo come primo cavallo Zorai da fonte perché vola, va in testa, è una cavalla, i suoi 13 li fa sempre. Secondo cavallo mi piace Zephyr Weiss e il terzo Zelligrab. Premio Orsa Minore, seconda in programma, prova abbinata all'Ipica nazionale, una prova di categoria F, ci sono 5 anni ed oltre pronti a misurarsi sui 1600 metri, una prova ovviamente dedicata ai professionisti in 12 raccolti dietro le ali dell'autostarter. Per un premio Orsa Minore che è a raccogliere ben 12 soggetti, noi ci siamo affidati per la disamina della corsa a Lorenzo La Rosa che è impegnato con il numero 4 di Ottavio DL, il numero 10 di Varano Jet che guiderà inoltre e poi andiamo anche con Un Passion Play, numero 12 dello schieramento. A seguire sentiremo invece Dario Di Maio che guiderà Tesis GV. Allora la forma anche se non evidente, io direi che ultimamente ho guidato un cavallo che se riesce ad andare liscio è tre cavalli da battere, ed è ultra Cagiamar, il numero 9. Gli viene una corsa un po' avversa, poi mi sbaglia prima di scurvare sull'ultima curva, però secondo me faceva una velocità. Quindi metterei lui con Un Passion Play, numero 12, e poi Ottavio DL che sta correndo bene, col 4. Il numero non è male, il numero 8 rimango alla corda e vediamo di sfruttare la scelta di Scela Boss che è una colla che parte forte. La guido da catch, l'ultima, se non mi sbaglio, è arrivata terza o quarta col proprietario Giannola, correndo bene. Quindi però le chance vanno sul numero 5 Taler Di Pippo che è l'ultima perda da Toshiba S facendo 2-13-3 scoperto. Premio Perseo, ancora un'altra prova abbinata all'Ippica nazionale, prova per professionisti ingaggiati, soggetti di 7 anni ed oltre, di categoria G, impegnati sempre sui 1600 metri. Ci sono ben 13 pronti a confrontarsi. Noi vediamo un po' quale potrebbero essere i papabili attraverso le parole di Dario Di Maio che guiderà il numero 5 Royal Waking e invece Lorenzo Larosa che ci parlerà di Turner AS del numero 8 solo G. Il Royal nel passato ha mostrato che la pista siracusana gli piace tanto. Adesso gli anni passano anche per lui, qualche acciacco, qualche doloretto, però con questi se è bello in meccanica può dire la sua. Chi potrebbe accompagnarlo sul podio? Ma guarda, a me onestamente piace tantissimo il numero 7 di Turner AS. È il numero 13 di Tequila Boom Boom. Allora io guido Turner AS, è un cavallo che ultimamente l'abbiamo mandato al mare perché qui non rendeva troppo. La prima sembrava in ripresa, la seconda ci ha lasciato un po' così quindi ce lo stiamo rivedendo. Se riesce a recuperare un po' mi piace nei primi tre. Io direi con Todo Bien il numero 3 come cavallo base. Turner AS e solo G che l'ultima non corre male. Il premio Costellazioni è la prova di maggiore dotazione, 7.700 euro per una prova dedicata ancora ai gentlemen che scenderanno in pista per una condizionata sui 1.600 metri. Ci sono ingaggiati soggetti di tre anni. Proviamo a pronosticare questa prova attraverso le parole di Vincenzo Lo Giudice che è sotto le sue cure, il numero 13 Alaide Dorio. La Puledera ha poche corse, questa è la terza corsa in carriera quindi per adesso sta solo imparando a correre. Non abbiamo nessuna pretesa. Sulla carta? Sulla carta spicca Sisi Pax perché ha corso benissimo il centrale quindi è il cavallo pensino assoluto da battere in questa corsa. E la sorpresa? La sorpresa? Mi piace molto questa Emilica, è una cavallina d'utile e è Angelo Dipa che sta correndo bene. Premio Castiopea, prova ancora binata all'Ippica nazionale, una condizionata riservata ai cavalli di 4 anni, prova per professionisti sempre ingaggiati sui 1.600 metri, anche qui un ricco campo partenti. sono in 13 al Via. Proviamo a esaminare questa prova grazie ancora a Lorenzo La Rosa che ci parlerà di Zeus San e di Zenilcam e a Dario Di Maio che invece darà le sue impressioni su Zenil RL. Vedo il numero 6 che secondo me sarebbe il cavallo da battere che è zagato. È una corsa apertissima quindi insomma ci sono svariate categorie un po' smistate. Poi come secondo direi Zirconerab con Zarafa che è una cavalla che comunque sta correndo benino. Zenil RL le chance in queste categorie le dovrebbero avere. Un pochettino è penalizzata dal numero però cerchiamo di andare subito tra i primi e di prendere il massimo. Tra gli altri? Tra gli altri c'è Zirconerab che all'ultima fa un ciocco, sbaglia a partire e ancora arriva quarto. Quindi le chance vanno su Zirconer, zagato che è un callo fortissimo, l'ultima sbaglia nel centrale se la giocava per la vittoria e poi ci mettiamo il numero 10 Zola Egral. 6.600 euro, dotazione del premio Andromeda. Una prova di categoria D. Ci sono i professionisti ingaggiati sugli 11 soggetti di 5 anni ed oltre. Prova anche questa abbinata all'Ippica nazionale. ad affrontare 1.600 metri, 11 al via. Questa è una prova davvero molto aperta dove tutti si giocano a meno una chance. Dario Di Maio è impegnato in questa prova con Vaitor, soggetto molto atteso, mentre Lorenzo Larrosa ingaggia Ucci Ucci Play, Tsunami Gifont e Try Again numero 11 dello schieramento. E con Vaitor le scienze ci sono. Il cavallo oggi fa l'ultimo lavoro di rifinitura, il penultimo mi è piaciuto tantissimo. In questa categoria ci sta, anche se è una corsa molto molto dura. Chi c'è da battere? Ma su questi secondo me ad oggi svetta Tsunami Gifont che viene da due primi. Poi non si può togliere secondo me il numero 7 di Whitton Firm. Vai Torre ci sta bene. Questa è una corsa dove noi abbiamo qui Ucci Ucci Play, poi che lo guida mio nipote Francesco, poi io e mio figlio siamo impegnati, lui con il Raion GV il 10 e io con l'11 3 Again. Che dire, anche questa qui è difficile proprio da pronostitare. Il cavallo da battere credo che sia Vilnev Griff il numero 4. Metterei poi Ucci Ucci Play con il numero 5, Try Again con l'11 e Tsunami Gifont con il 6. E a chiudere il convegno, il premio Orione è invece prova di categoria G. Ci sono indigeni di 5 e 6 anni impegnati su questi 1600 metri. Anche questa prova di chiusura sarà abbinata al gioco Ippica Nazionale. Sono in 11 al Via. Un premio Orione che vede appunto in prima chance una stella BF che sarà guidata proprio da Dario Di Maio che sentiremo tra qualche istante. E a seguire invece ascolteremo anche Lorenzo Larrosa che impegna Urania Gifar. Una stella BF Dario Di Maio. Quale chance? L'ultima galla sta correndo molto molto bene. Si è agganciata all'ultima curva, arriva la quarta e sbaglia vicino al palo. Quindi le chance ci sono. La compagnia svetta il numero 5, Hugo Schamp, che è l'ultima, arriva secondo contro schema, partenza di fuori scoperto, quindi ci sta bene. Poi mi piace il numero 3, di Volaciac e Sem. Lussarina TRGF, il numero 8. La chance di Urania Gifar, secondo lei? Allora, la galla che all'ultima corse sta correndo male perché aveva una bronchitella, abbiamo provato a fare la prima curetta e non ha risposto. Adesso vedremo la visitata, insomma abbiamo fatto un'ulteriore cura e stiamo correndo. Se riesce a liberarsi da questo mucchetto e da questa farincite che aveva, potrebbe contare nei primi 3 perché il numero è buono. Quindi perché non metterla? Allora io direi, Lussarina TRGF l'8, con l'1 Urania Gifar e il numero 10, una stella BF. E con questo è tutto, quindi dell'ippodromo del Mediterraneo. L'appuntamento è rimandato a lunedì 8 luglio con apertura alle 19.25. Ultima prova prevista intorno alle 22.50. Arrivederci.